l'8084 italia regno e colonie piccolo classificatore con l'accumulazione di valori bolli generalmente nuovi possono essere nuovi con e senza linguella io ho scritto da esaminare quindi probabilmente ci sarà qualche valore che potrebbe avere ruggine o traccia di ruggine anche se comunque l'insieme si presenta bene tutto qua se volete altre informazioni scrivete affilateli a chiocciola 4 baiocchi punto com eccociola